Io sono nata a Roncolo di Quattrocastella il 21 maggio del 1921. La mia famiglia allora era una famiglia contadina, ma l'origine della mia famiglia non è contadina. Mio nonno aveva fino a 20 anni studiato come maestro di musica e aveva fondato la banda musicale di Vezzano. Mia nonna era la figlia del segretario comunale di Vezzano, che aveva avuto quel posto in quanto aveva operato lui e il fratello Baroni Radighieri per l'unità d'Italia. Per cui avevano entrambi fatto le scuole molto più superiori di quelle che non facevano normalmente i contadini e avevano anche un determinato livello culturale. Ad esempio mia nonna, pur essendo una donna, tutti i giorni leggeva il giornale. Questo mio padre me lo riportava sempre come esempio l'importanza anche per la donna di avere una determinata cultura. Si sono sposati che avevano poco più di 20 anni, giovanissimi, non avevano altra possibilità di occupazione e si sono messi a fare i contadini. Però la generazione di mio padre è stata l'unica che ha fatto i contadini, fino ad una determinata età, perché poi hanno fatto altre scelte. Grazie.